a quanto pare è arrivato niente per davvero questo sarà un video che ve lo dico subito molto spontaneo pochi tagli voglio proprio vedere se mi è arrivata un'unità fallata insieme a voi se ha lo schermo verde come quello del mio pixel 5 visto che purtroppo sono esperto e tra l'altro questo pacco è stato protagonista di una disciplina olimpionica a tutti gli effetti se mi seguite su instagram avrete accesso a questo backstage ossia i magici corrieri che lanciano i pacchi a distanze siderali oserei dire non è per niente pieno ok è lasciato a se stesso poteva sballonzolare quanto voleva questa scatola e vi starete chiedendo sicuramente perché sto indossando una maglietta bianca non è vero è un evento abbastanza raro non è vero però il colore magari mi piacerebbe mi piacerebbe anche nero naturalmente ringrazio nothing perché assolutamente sono fortunatissimo a ricevere questo prodotto in prova ma spero sia bianco fatemi sapere nei commenti voi se lo preferite bianco o nero dalle prime recensioni che stanno arrivando adesso lo vedo adesso vedo già qual è il colore ragazzi ditemi solo davvero bianco o nero e iscrivetevi a questo canale se volete aspettare insieme a me la recensione quindi questo è veramente solo un unboxing per vedere se va tutto bene non sto guardando nero bianco ditemi solo nero serietà allora è bianco forse sono tutti bianchi non lo so ma ho visto arrivare a recensori oltro c'è in inghilterra versioni nere vabbè sono molto contento maglietta bianca portafortuna messaggio di nothing welcome back facciamo la tecnologia divertente molto bene lo leggeremo più avanti allora la versione per youtuber creator contiene anche lo screen protector no questa qua sarà sicuramente scusami la cover ok screen protector ok ok a noi hanno mandato anche l'alimentatore che vi ricordo non essere presente nella confezione del telefono visto che si capisce che è anche sottilissima è un po difficile inserirne uno però però il caricatore ce l'hanno mandato da 45 watt molti spesso chiedono come mai da 45 watt se il telefono può supportare solo 33 watt ottima domanda ma loro lo hanno fatto perché almeno con 45 watt puoi avere una power delivery per poter caricare anche per esempio dei portatili quindi è come se ti vendessero un prodotto che non utilizzi proprio solo col telefono diciamo che puoi utilizzarlo anche con dei prodotti che si pensa tu possa avere è giunto il momento di lui lui che arriva in una confezione di carta forse l'avrete visto è in versione 8 256 va bene ok quindi non hanno mandato la versione migliore ma a me non interessa perché io lo volevo bianco bianco punto è meraviglioso posso aprirlo tramite linguetta cosa che mi piace tantissimo perché le scatole vanno buttate o comunque non vanno tenute non sono il prodotto sono dei pezzi di carta ascoltate insieme a me ok piccolo cappuccio e doppia tasca questa è una giocata carina elegante allora a destra troviamo gli accessori mi sembra vero di stare ad unboxare un telefono che non pensavo nemmeno esistesse a un certo punto perché non arrivava insomma mi ero fatto delle domande qui troviamo tutta la solita strumentazione ma strumentazione documentazione ma il dettaglio che vi voglio che vi voglio far notare è questo che è una piccolissima puntina per estrarre la sim ma trasparente questa è una chicca una chicca di nothing che non cambia la vita ma si apprezza è il momento no non fare il fanboy non fare il fanboy non fare il fanboy però sembra molto bello allora c'è una linguetta alla base mamma mia bianco mi piace veramente tantissimo per un semplice motivo perché mi sembra che si vedano molto molto meglio i dettagli i dettagli industrial industrial design mi fanno veramente impazzire ok l'ho aperto alla base ah ci invita a aprirlo tutto ok tanto lo so che poi devo cambiare ah bello eh ragazzi esiste è lui ed è veramente molto 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 bello da vedere leggero ma non troppo ve lo dico si vede che stiamo molto vicini ai 200 grammi di peso lo accendo subito così andiamo a toglierci il dubbio vediamo se si accende è carico vero? è carico vero? è carico vero? sì è carico nothing il display sembra spettacolare sembra veramente spettacolare dei neri sontuosi profondissimo sarà che sono stato buongiorno buongiorno è grosso cioè nel senso è 6.5 pollici si vede si vede ma dà una sensazione di di cura dei particolari dell'assemblaggio che è impressionante le cornici si vede che sono in alluminio non sono proprio in acciaio letteralmente con qualità sbalorditiva però sono belle e non sono troppo zigrinose cioè sono molto lisce molto molto lisce può piacere o non piacere eccoci qua hello ok dopo faremo la storia della sim io voglio andare solo a vedere se va tutto bene su questo telefono vabbè sistemiamo dopo tutta questa roba more ok il pin non lo voglio via skip avanti term and condition si va bene no non condivido niente gesture navigation welcome finito molto bene ah no swipe up to start ok è lui allora io devo andare a cercare un punto abbastanza nero per capire se ecco mi faccio a capirlo da qua sembra ok però ragazzi penso di non dover fare nient'altro il telefono sembra molto fluido complici complice ovviamente il pannello a 120 hertz nothing phone 1 bianco 8256 faremo una recensione faremo un video dedicato che ho intenzione di fare veramente come si deve cioè come si deve mi va via la voce come si deve ricco di dettagli e mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina della notifica delle notifiche se volete appunto restare aggiornati su quando uscirà voglio capire qui se che bello cioè wow guardatelo ma sembra perfetto sto cercando di capire se ci sono dei dettagli fuori luogo ragazzi seguitemi anche su twitter e instagram per sapere se salteranno fuori dei problemi con questo telefono e ora vi stoppo addio è stato bello addio